Costituita d'opera dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, un'area omogenea denominata STO, sistema territoriale operativo, relativa al riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in Campania. La Regione Campania, con l'approvazione della suddetta legge relativa alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, ha stabilito tra l'altro che il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si è organizzato e derogato all'interno degli Ato, per consentire economie di scala e di differenzazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. I Comuni di ciascunato possono esercitare in forma associata alle funzioni organizzative del servizio, con particolare riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti al fine di consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali e favorire l'efficienza gestionale. Ciascunato può essere articolato in aree omogenee, denominati sistemi territoriali operativi. Ogni STO deve essere teso a raggiungere obiettivi di efficienza ed efficacia, fissando dimensioni che assicurino il conseguimento di economie di scala e il rapporto non solo alla popolazione servita, ma anche in funzione di fattori geomorfologici ed urbanistici, al fine di distribuire equamente sul territorio l'onere del servizio e minimizzare l'impatto finanza pubblica.